Ragazzi, sono arrivati questi altri due punti dopo l'ottima prestazione di La Spezia. Non era semplice contro una squadra ostica? No, senza dubbio non era semplice. Dovevamo confermare la prestazione fatta a Spezia per dare veramente un segnale al campionato, ma soprattutto a noi stesse. Ci siamo accorti a Spezia che se giocando insieme di squadra possiamo veramente fare bene. Ho visto soprattutto una grandissima difesa, perché avete costretto molte volte a tirare oltre 24. Sì, deve tornare ad essere il nostro marchio di fabbrica come lo era l'anno scorso. Quest'anno abbiamo forse lavorato più sull'attacco a inizio anno, ma ci stiamo riprendendo il nostro marchio di fabbrica. Senti, arriva Natale per voi, quest'anno feste non ce ne sono tra Roma, Viterbo e passando per Pistoia. Insomma, sarà un Natale sui generis? No, però diciamo che forse a noi le pause troppo lunghe non ci fanno bene, e quindi meglio così.